Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, è riuscito nella tarda mattinata di ieri a risolvere gli ultimi intoppi riguardanti la nomina dei quattro assessori sui quali poggerà la nuova giunta per i prossimi 100 giorni. Il nodo più stretto da sciogliere è stato quello riguardante la nomina di Maria Carmela Lanzetta. L'ufficialità della sua posizione è stata resa nota dal premier Matteo Renzi al termine di un lungo colloquio con l'ex sindaco di Monasterace. Renzi, insomma, avrebbe convinto la Lanzetta a deporre le ultime riserve e a retrocedere da ministro della Repubblica ad assessore regionale. La Lanzetta si occuperà di riforme istituzionali, semplificazione amministrativa, cultura e pubblica istruzione, oltre che di pari opportunità. Ho sempre lavorato con passione e con spirito di servizio per il mio paese, da sindaco per Monasteracea e la Calabria e da ministro per l'Italia, è stato il commento della Lanzetta, che si è detta felice di tornare in Calabria. Al di là dell'entusiasmo per la nuova carica, un velo di amarezza per come sono andate le cose, tuttavia, sembra esserci. Alla base di tutto, pare, visia, il metodo piuttosto obbligativo utilizzato da Roma. Non sono un politico di professione, spero, ha aggiunto il ministro, di non diventarlo mai. Ringrazio i presidenti Renzi e Oliverio per avermi dato la possibilità di mettere a disposizione la mia esperienza e la mia passione politica. Intanto, sono attese per oggi le sue dimissioni dalla carica di ministro. È un percorso, quello che attende la giunta a Oliverio, ha fatto sapere, invece, Ernesto Magorno, che si prospetta ancor più incisivo per il sostegno pieno che gli viene assicurato dal governo nazionale. Ne è testimonianza la presenza nella squadra di governo di Maria Carmela Lanzetta. Nella giornata di oggi segna un nuovo importante passaggio, in attesa dell'annunciato completamento della giunta, e sarà compito dei democratici calabresi sostenere con passione e determinazione l'azione dell'esecutivo regionale, guidato da Oliverio, per scrivere una pagina di reale e profondo rinnovamento nella storia di questa regione.